Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Se dieron cuenta quasi al fin del mondo. Vi ringrazio l'accoglienza. Agradezco la pacienza. La comunità di Ocesana di Roma. La comunità di Arquidiocesi di Roma. Muchas gracias. E prima di tutto, prima di tutto, vorrei fare una pregaria per il nostro Papa Emérito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, per che il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, per noi lo rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con ti, benedetta fra le donne e benedetto il tutto del tuo, Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, aveva e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. E adesso, incominciamo questo cammino, Vescovo e Popolo, con il Pueblo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità di tutte le Chiesi. Un cammino di fratellanza, un cammino di amore, di fiducia fra noi, di fede entre noi, preghiamo sempre per noi, sempre per l'altro, uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, pidiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza, para che exista una grande fraternità. Ti auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi cominciamo, che oggi cominciamo, con il mio Cardenale Vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso, vorrei dare la benedizione, ma prima, prima vi chiedo un favore, prima che il Vescovo benedica al popolo, prima che il vicario, prima di benedicere al popolo, preghiamo al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. A me, facciamo, facciamo, facciamo in silenzio, facciamo in silenzio, questa preghiera del voi, subime. De ustedes, para me. Il Santo Padre Francesco, a tutti i cederi presenti, a quelli che ricevono la sua benedizione, a mezzo della radio, della televisione, delle nuove tecnologie di comunicazione, concedere la indulgencia plenaria, della forma stabilita della Chiesa. De la forma che lo sape dalla Chiesa. Pediamo al Omnipotente, per che conserve larga vita al Papa, al Jefe della Chiesa e concedere la Chiesa a la Chiesa in tutto il mondo.